La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, digital health. Il premio va a Vri Health Italia! Per essere un'eccellenza italiana nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni e prodotti di digital health, in particolare per aver sempre puntato sull'innovazione e sulla qualità, proponendo soluzioni di digital health all'avanguardia e dedicando attenzione costante alle esigenze del cliente. Eccoli qui un applauso, Vri Health Italia! Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, digital health. Abbiamo ripetuto più volte questa parola perché anche questa è una parola complicata, però importante in questo momento. Un passettino avanti, foto sul palco, complimenti! Bravissimi! Buona serata, grazie per essere con noi! Siamo in compagnia di Matteo Moscatelli, Country Head Vri Health at MSD. Buonasera, benvenuto! Buonasera, grazie! Ecco, anzitutto le chiedo perché secondo lei Vri Health ha vinto proprio quest'anno questo prestigioso premio che sono appunto i Le Fonti Awards. Ma è interessante la domanda perché Vri Health è più di dieci anni sul mercato, però probabilmente la pandemia ha fatto evidenziare l'esigenza di aziende di questo tipo, che fanno attività di telemonitoraggio, teleconsulto e probabilmente si è sentito adesso l'esigenza per capire il valore che può esprimere un'azienda come la nostra. Ecco, le chiedo cosa contraddistingue Vri Health dalle altre aziende che operano nel mercato della digital health. Contraddistingue Vri l'idea, l'idea di come è stata creata. È stata creata con l'ottica di dare valore al paziente perché è uno dei rami solidi della nostra azienda, il gruppo farmaceutico e sostanzialmente esprimere quello che è prima il valore al paziente e poi si capisce come strutturare il servizio e come integrarlo. Perciò è proprio l'opposto di come si parte, di solito si parte da un sistema informativo e poi si arriva al paziente, mentre lato nostro passiamo dal paziente, dal valore al paziente e poi andiamo a capire qual è la tecnologia necessaria per fare questo tipo di attività. Le chiedo infine quali sono i prossimi obiettivi dell'azienda. Gli obiettivi prossimi dell'azienda sono quelli di consolidare tutto il lavoro fatto in questi anni e convertirlo in business per creare quelli che sono use case da replicare nelle prossime esigenze, si spera più positive di quelle appena avute e soprattutto quello di andare a esplorare i mercati all'estero.